Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Sword Crafters, un gioco veloce e veramente molto carino a cura della Little Rocket Games che ringrazio di cuore immensamente, perché a parte che è un po' di tempo che ci collaboro, per avermi offerto questa copia del gioco e devo dirvi che è un prodotto veramente interessante, veloce per tutti i palati, ma soprattutto è anche bellino visivamente e si può portare ovunque. Questo è davvero il classico gioco da mettere a tutti i tavoli o da portarsi anche in giro magari per le vacanze estive, visto il periodo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sword Crafters, a cura della Little Rocket Games, sottotitolo che vinca la lama migliore, è un gioco veramente interessante perché noi saremo dei costruttori dei fabbri dei nani e la nostra missione sarà quella a livello di lore di andare a ricostruire una lama leggendare e magica che è andata distrutta nelle guerre e nel tempo. Quindi dovremo andare a costruire quest'arma ed è bellino perché le regole del gioco prevedono che ci siano diversi materiali nella forma ovviamente di mattoncini o quadratini che noi dovremo andare a impilare tutti insieme e che faranno la lama della spada. Lama della spada che potrà, non c'è una forma vera e propria, quindi la spada potrà essere una spada corta, una spada media, una spada bastarda o una spada a due mani. Deciderete voi quanto verrà lunga, però il regolamento del gioco vuole che inizialmente noi prenderemo tutte quante questi tipi di materiali con cui fare la lama della spada perché l'elza ovviamente e il manico l'avremo di partenza tutti quanti e dovremo disporli in un quadrato. Ciascun giocatore nella sua azione potrà dividere questo quadrato in due gruppi e la regola vuole che per ogni giocatore dovrà sempre essere diviso in due quindi se c'è un quadrato io posso dividere in due. Se un giocatore decidesse di dividere ora quest'altra serie potrebbe dividerla in verticale o in orizzontale basta che i gruppi che vengono creati di quella nuova zona, di quella nuova branchia di elementi siano sempre due, quindi se per caso il taglio dovesse smistare in tre la mossa non sarà lecita e non andrà bene e andrà rifatta. Fatta questa cosa qui del taglio, ciascuno dei giocatori deve decidere a quel punto di prendere un mucchietto di quelli tagliati e lo deve prendere tutto insieme e se lo porta per impilarlo sulla lama. Regolamento del gioco, poi ci sono cose aggiuntive ad esempio perché magari in mezzo a questi materiali esce il simbolino dell'incudine che è il simbolo che va a rappresentare il prossimo giocatore cioè il primo giocatore, quindi quando andrà a girare il turno chi avrà trovato quell'incudine automaticamente nel turno successivo farà la prima mossa ed è bellino perché fra i tanti conti particolari che si possono fare e quello più classico di questo gioco si guardano le serie di mattoncini colorati o per meglio dire minerali e materiali colorati con cui stiamo facendo la lama e danno punti perché magari se siamo riusciti a metterne tre o quattro insieme verdi dello stesso colore avremo un bonus se riusciremo a metterne magari due rossi e tre gialli conteranno quelli di più, conteranno quindi soltanto i tre gialli se non avremo colori dello stesso tipo tutti quanti messi insieme prenderemo il punteggio minore e bene o male i regolamenti è questo e piano piano si vanno a impilare a creare questa spada in 3D tra l'altro è un cartoncino però bellina e arrivati alla fine del terzo o quarto turno si farà la conta dei punti e che verrà fatto la spada migliore e vincerà questo Sword Crafters della Little Rocket Games è un gioco assolutamente per tutti questo è davvero anche per i più piccoli in assoluto che devono prendere fondamentalmente questi mattoncini colorati e impilarli quindi è un gioco assolutamente alla portata di tutti veramente divertente, come dico sempre, fresco e immediato tirato fuori dalla scatola mentre si va a defustellare si legge il regolamento che sono due pagine ma veramente due pagine e siamo pronti a giocare io ringrazio la Little Rocket Games per avermi offerto questa copia per la recensione e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione dalla giocolibreria Semola al miglior prezzo sul mercato se lo trovate in lista ma è finito o proprio non c'è nel catalogo scrivete al support a Corrado, il proprietario della giocolibreria Semola e fatevi presente nella mail che andete a scrivere al support che arrivate dal canale di Coridan lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e, cosa più importante, usate sempre il codice discount Coridan7, tutto scritto maiuscolo per avere uno sconto del 7% e se superate le spese, la spesa complessiva comprando qualsiasi cosa, non solo giochi da tavolo di 79 euro, spese postali gratuite in tutta Europa in 48 ore e vi arriva a casa quindi fatemi sapere cosa ne pensate e vi assicuro è il classico prodotto veloce e divertente in assoluto per tutti i tavoli e per qualsiasi età Ciao ragazzi, alla prossima!